Il mio piatto preferito? Non ci penso due volte a rispondere. Il risotto, senza dubbio. Lo adoro proprio in ogni sua variante, però oggi vorrei preparare con voi il mio pranzo. Il risotto con le sbrise, questi funghi giganti e sedano sfumato con frusecco. Il segreto per preparare un buon risotto qual è? Il brodo ovviamente, quindi vi consiglio di preparare un buon brodo vegetale. Bene, vi consiglio questa volta di partire dalla zucca. Ebbene sì, proprio la zucca all'interno del brodo vegetale vedrete che il risotto poi avrà un retro gusto speciale, dolce. Proprio molto molto buono. Ora ci dedichiamo alla preparazione del sughetto che abbiamo detto essere a base di sbrise, che sono questi funghi giganti, i pleurotus, e sedano. Se non trovate le sbrise vanno bene anche altri tipi di funghi come chiodini, pioppini, champignon, quello che gradite. Allora le sbrise vi sconsiglio di inzupparle nell'acqua, eventualmente passatele tutte con un panno umido per togliere eventuali impurità, oppure potete semplicemente sbucciarle così, vedete, se sono magari un po' passate. Oppure così. E poi li tagliamo a pezzetti, come sto facendo. Facciamo la stessa cosa con il sedano, eventualmente se il sedano è un po' duro e legnoso possiamo togliere i filamenti. Oppure va benissimo se usate il sedano bianco, che è più morbido. Poi lo tagliamo anche questo a pezzetti piccoli piccoli. Una volta realizzata la dadolata possiamo procedere con la preparazione vera e propria. Quindi ho già versato un cucchiaio, un cucchiaio e mezzo di olio extravergine in una casseruola. È calda, quindi trasferiamo tutte le verdure all'interno e rosoliamo. Manteniamo quindi una fiamma sostenuta per 2-3 minuti. E poi terminiamo la cottura per altri 5 minuti. Aromatizziamo con dell'aglio in polvere oppure anche uno spicchio di aglio, se vi piace. Sale, pepe. Mescoliamo e portiamo a cottura. Ci siamo ragazzi, sono passati circa 5 minuti. Quindi il sughetto si è portato avanti un pochino con la cottura, vedete. A questo punto possiamo unire il riso. Vi consiglio Carnaroli o Vialone Nano. Mescoliamo. Sfumiamo con del buon prosecco. Quindi mantenete la fiammata perché l'alcol deve evaporare rapidamente. Ora, il vino è evaporato. Possiamo procedere con la realizzazione del risotto. Quindi lo idratiamo un po' per volta aggiungendo un mestolino o due. E aspettiamo ad aggiungere altro liquido fino a quando il liquido che abbiamo aggiunto sia assorbito completamente. Mescoliamo spesso, abbassiamo pure la fiamma o il calore in questo caso. Fate attenzione a mantenere costante il bollore. Cuciniamo per circa 12-15 minuti in base al tipo di riso che abbiamo scelto. Ci siamo. Dopo circa un quarto d'ora o poco meno, il riso è pronto, vedete. Bello cremoso al punto giusto. Ora possiamo spegnere. In questa fase aggiungiamo a piacere del formaggio grana. E ho preso qui dal freezer il mio solito sacchettino di prezzemolo che mi conservo puntualmente ogni anno. E aggiungiamo il prezzemolino così. Una mescolata possiamo servire. Volete rendere il risotto ancora più saporito? Allora vi consiglio in quel caso di aggiungere dei funghi secchi oppure dei funghi porcini. Sentirete che sapore! Ultimate il tutto poi con una grattugiata di tartufo nero e i vostri ospiti ne rimarranno entusiasti. Parolo di Alice! Al prossimo episodio